Elezioni regionali 4 marzo 2018 Domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23, si vota in Lazio e Lombardia per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. I partiti e i gruppi politici, a meno che non rientrino nei casi di esonero previsti dalla legge, devono raccogliere le firme per poter presentare liste e candidature. Per il Lazio e la Lombardia, le candidature a Presidente della Regione e le liste provinciali devono essere depositate, con le firme necessarie, rispettivamente presso la Cancelleria della Corte di Appello e le Cancellerie dei Tribunali del Capoluogo di Provincia, dalle ore 8 alle ore 20 del 2 febbraio e dalle ore 8 alle ore 12 del 3 febbraio. Per maggiori informazioni, regione.lazio.it, regione.lombardia.it, rai.it e televideo.